Rieccoci, Primo Sinterpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, il tema attuale sono ovviamente i vaccini e per poterne parlare non potevamo non invitare, lui l'ha accolto con, noi ne siamo felici, il professor Giorgio Palù che lo ringraziamo, ad ogni rientro della pubblicità. Allora parlavamo prima della pubblicità della garanzia del vaccino e dovevamo ancora ultimare quel ragionamento del professor. Certo, ulteriore garanzia di come si è evoluto il nostro mondo occidentale anche nella scienza regolatoria e quindi negli enti che controllano la sicurezza dei vaccini. C'è un dato che dovrebbe tranquillizzare, sa che noi abbiamo ipotecato l'acquisto di oltre 40 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, che è un vaccino che almeno nell'idea nasce in Italia, nasce a Pomezia in virtù dell'intervento di Riccardo Cortese, che ha pensato bene di usare non l'adenovirus umano depotenziato ma quello dello scimpanzé e poi è stato venduto il vettore a AstraZeneca, Oxford, Università di Oxford e Jenner Institute. Quindi l'AstraZeneca è un'industria farmaceutica svedese e britannica. Ecco, sappia che quel vaccino, proprio perché ha avuto, diciamo, l'FDA, ma anche l'EMA si è accorta nella pubblicazione scientifica, ci si è accorti che l'efficacia era al 90%, ma se nella dose iniziale si usava, ed è stato quasi un errore, una dose dimezzata, beh, ecco, lei capisce che passare dal 60 al 90% di efficacia, questo ha messo in guardia gli enti regolatori, tanto che hanno richiesto ulteriori approfondimenti sia nella fase di produzione del vaccino che nella fase di controllo. Quindi AstraZeneca, sia l'FDA prima, ma anche l'EMA adesso ha chiesto ulteriori approfondimenti, quindi questo vaccino ritarderà un poco, ma voglio dire avremo il vaccino Moderna che invece ha avuto uno standard di valutazione molto elevato. Quindi un'ulteriore garanzia, dicevo, che gli africani non hanno chi si vaccina con il vaccino cinese. Senta, professore Palu, si è parlato, e si continua a parlarne, che dall'Inghilterra ci sono state delle mutuazioni che il virus ha avuto una variabile, che sono delle variabili, delle mutazioni nei virus. La domanda che le faccio è, queste mutazioni possono influire sui vaccini? Oppure no? Allora, sicuramente in linea teorica lo possono, ma adesso spiego meglio. Ecco, questa cosiddetta variante inglese, intanto non è da ieri, è da settembre. Circolava nel Kent in soggetti asintomatici. Sì, no, ma la domanda era se ovviamente è mutante per il vaccino. Ecco, questa variante inglese ha delle mutazioni, quelle che ci interessano, quelle che avvengono nella proteina Spike, quella contro cui si producono gli anticorpi e che serve appunto come antigene vaccinale. Ne ha due in particolare, una proprio nel sito che lega il recettore, un'altra nel sito vicino dove il virus fonde con la membrana. In realtà si è già visto, ecco, che i vaccini, sembrano che sono esperimenti preliminari, neutralizzano anche questa variante. È possibile che in futuro se ne formino di altre? Ecco, questo non lo possiamo predire. Un virus che muta, più virus si diffonde e soprattutto, ecco, dov'è che si formano le varianti? Soprattutto in quei soggetti che albergano per lungo tempo, sono soggetti probabilmente immunodepressi o gravemente immunodepressi, dove l'infezione perdura per più tempo. Quindi il virus replica molto di più e fa queste varianti. Molte varianti sono inefficaci dal punto di vista replicativo. Altre invece favoriscono il contagio del virus. Quindi ne abbiamo avuto altre e le abbiamo anche studiate. Però, ecco, il dato rassicurante è che nessuna di queste varianti è più virulenta. Cioè, in nessun caso abbiamo visto che il virus dà una patologia più grave e non è mai stato collegato con una letalità mutata. Quindi, ecco, io sono convinto che, essendo il vaccino in grado di indurre anticorpi contro tutta la proteina, e sappiamo bene che ci sono siti nella proteina, non solo che interagiscono, ma anche quelli che non interagiscono con il recettore, che sono importanti per far entrare il virus. Quindi io credo che questa sia un'ipotesi. Ecco perché bisogna studiare l'evoluzione del virus e studiare la risposta immunitaria. Ma sono convinto, come dicevo prima, che questo vaccino sia efficace anche contro quella variante, dai dati preliminari e che in ogni caso abbiamo la tecnologia per costruire in tempi rapidissimi eventualmente altri vaccini efficaci. Senta, il Ministro Speranza ha detto che arriveranno 200 milioni di dosi in Italia. Ovviamente se arriveranno saranno sufficienti per la popolazione italiana. In che tempi e quanto tempo ci vorrà perché la maggior parte della popolazione si faccia il vaccino e quanta popolazione dovrà farlo perché abbia un risultato positivo per l'internazione? Allora, Ministro Speranza si è accapparrato 202 milioni di dosi, che vuol dire se noi facciamo e non tutti i vaccini vengono inoculati in una prima dose, in una dose di chiamo, cioè in due dosi, ci sono anche dei vaccini che abbisognano soltanto di una sola dose, significa coprire 110 milioni, 105 milioni di italiani. Quindi sappiamo che siamo a 60 milioni. Suficiente. Ecco, allora il problema è che ci sono diverse piattaforme, come ho cercato di spiegare prima, sono vaccini che hanno bisogno di meno 70 gradi per essere conservati. Moderna, bastano meno 20 o può stare alcuni giorni anche a più 4 e pur sempre ad mRNA e poi ci sono vaccini che possono rimanere anche a 4 gradi. Quindi, ecco, voglio dire, c'è più tempo per vaccinare. Dipenderà appunto dall'approvvigionamento e da come le forniture arrivano. È previsto che ne arrivino già 500 mila nel giro di questa settimana, altri 2 milioni entro gennaio e si dovrebbe completare un arrivo già per la primavera-estate. Ecco, si considera però che la vaccinazione, se sono due dosi, possa essere completata verso settembre, settembre-ottobre. Quanto, quale deve essere la copertura vaccinale? Che è la domanda che mi faceva per essere efficace. Questa si calcola sul cosiddetto parametro R con 0. Che cos'è l'R con 0? È il numero di base della replicazione del virus, tradotto in termini più semplici, è l'indice di contagiosità del virus, cioè quanti contatti è in grado di infettare una persona che è sorgente dell'infezione nel periodo in cui alberga l'infezione. Sappiamo che per questo virus l'R con 0 è 2,5, molto simile a quello dell'influenza. Quindi la copertura vaccinale per garantire un'immunità di gregge, cioè per far sì che anche quei soggetti che non si possono vaccinare siano protetti dall'immunità dei vaccinati, è del 65% della popolazione. Tanto per fare un esempio, per il morbillo, che è un R con 0 tra i 15 e i 20, quindi un bambino infetta per via aeree altri 20 bambini, ovviamente la copertura è del 90% e più. Quindi ecco perché noi temevamo quando siamo scesi, anche il Veneto per un breve periodo sotto il 90%, 89%, si è vista subito nuovi casi di morbillo. Quindi ecco questa è la copertura che dovremmo attuare. Quindi sui 40 milioni di italiani più o meno. 40 milioni di italiani. 40 milioni di italiani. Senta il professor Pallù, adesso le faccio le domande anche più semplici. Molti medici sono titubanti nel fare il vaccino e hanno dato anche determinate spiegazioni, valide o meno valide, ognuno la vede a propria maniera. Ma secondo lei chi lavora per salvare la popolazione deve avere l'obbligatorietà di fare i vaccini? Guardi io ho sentito molti colleghi, effettivamente è giusta una certa preoccupazione perché è la prima volta che una piattaforma basata su RNA messaggero va in uso clinico, addirittura è vaccinazione di massa. quindi ecco gli effetti sappiamo collaterali, gli effetti avversi sono stati studiati quindi questo RNA è stato modificato come appunto accennavo alterando alcuni nucleotidi non sappiamo però quelli che possono essere gli effetti a distanza quindi diciamo non sto per inseminare il dubbio è perché bisogna comprendere le motivazioni anche di certa ritrosia o di esitazione o di dubbio ecco allora ricordiamo, e non l'ho detto prima, che l'autorizzazione alla vaccinazione gli enti regolatori la danno su una base di emergenza quindi viene data, fatto salvo che ci sia nel periodo in itinere in campo durante la vaccinazione una continua analisi rischio-beneficio quindi per scongiurare effetti che ovviamente in un periodo di osservazione quindi il parola povere lo renderebbe obbligatorio per i medici, per gli infermieri, per chi lavora? allora ho risposto alla prima domanda, l'obbligatorietà è un'altra domanda quindi ci salvaguardi e una continua valutazione in campo allora da rischi che non sono stati previsti perché si è dovuto accelerare i tempi ma non saltare come qualcuno ha detto qualche fase clinica non si è saltata nessuna fase clinica si sono fatte fase 1, fase 2, fase 3 con 40.000 soggetti quindi in tempi molto rapidi quindi però ovviamente il periodo di osservazione oggi si è steso a due mesi e mezzo da quando la prima persona è stata vaccinata quindi non sappiamo quello che succederà dopo quindi è giusto cautelarsi e così ci siamo cautelati per quanto riguarda l'obbligatorietà io vorrei ricordare ai medici, ai infermieri, chi lavora nel settore vorrei ricordare che l'obbligo vaccinale esiste per alcune vaccinazioni sono quelle pediatriche perché esiste? perché sappiamo che prendersi la difterite o il morbillo in età infantile o neonatale è una mattia mortale quindi il rischio è elevatissimo e poi sappiamo che quelle persone non hanno, diciamo, le capacità di valutare un bambino o un neonato se può essere o meno infettato e quindi se è protetto dal vaccino quindi ci pensa chi? lo Stato ovviamente ci sono dei genitori che si rifiutano e anche qui entriamo in un altro capitolo ma allora le vaccinazioni obbligatorie esistono esistono le condizioni in cui se io voglio lavorare e cito quando sono stato in America la prima volta mi hanno chiesto la vaccinazione se no io non potevo né entrare in laboratorio né nelle corsie cliniche esistono le compagnie aeree che chiedono il certificato di vaccinazione allora veniamo all'obbligo io credo che per un medico, un operatore sanitario più che un obbligo imposto per legge senza arrivare all'imposizione per legge che sappiamo è possibile ma non sono un giurista è un obbligo deontologico, professionale quindi è un dovere quello che è un medico che dispensa salute dispensa vaccini dispensa farmaci di proteggere chi? il suo malato da un possibile contagio quindi quello che posso intravedere è a livello di responsabili di salute pubblica di strutture ordinistiche parlo ordine dei medici ho sentito il Presidente Anelli esprimersi ecco potrebbe succedere che a un non vaccinato come è già successo non sia permesso di praticare in ambiente pubblico quindi io credo che questa possa essere la soluzione e poi se varrà imposto per legge a tutti non solo alle categorie a rischio a quelle che si stanno vaccinando prima adesso ecco se andrà imposto a tutti questo però è un problema che riguarda un ambito di tipo giuridico diverso sì certo senta professore viene iniettato questo vaccino in quanto tempo quel vaccino inizierà a fare effetto e se nel tempo che farà effetto il soggetto che lo subisce è un soggetto debole allora sappiamo che sia in quella che è l'immunizzazione naturale quando noi ci infettiamo che in quella artificiale che è la vaccinazione quindi introdurre un prodotto un microrganismo al nostro interno per indurre una risposta artificiale di anticorpi o di cellule passano come meno due settimane tre settimane ma la prima risposta è una risposta imperfetta nel senso che si formano anticorpi che sono molto avidi cioè riconoscono molto legano il cosiddetto antigene quindi il virus se lo incontrano ma non con una grande affinità cioè non in forma molto stretta c'è bisogno di una seconda fase che è la risposta immunitaria secondaria che di solito si forma dopo due o tre settimane per avere diciamo la sicurezza ma in quel periodo mi scusi professore il soggetto in quel periodo è esposto è esposto di più quindi ci vuole ecco perché si fa la seconda dose dopo 21 giorni e c'è bisogno di ulteriori sette giorni perché si formano proprio anticorpi a titolo sufficiente e con grande affinità per neutralizzare ricordo che i vaccini mi scusi posso dire questo credo sia importante non prevengono soltanto la malattia anzi un vaccino che è un'efficacia del 95% come questo neutralizza l'infezione quindi prevenire l'infezione vuol dire dare un'immunità di tipo sterilizzante quindi vuol dire prevenire che si instauri un'infezione vuol dire che faccia seguito a una malattia nel mio corpo o che io possa trasmettere quell'infezione no no sì ma la mia domanda era cioè nel momento per esempio molto molto semplice io viene intanto il vaccino dopo un giorno due o sette giorni lei può infettarsi quindi deve mantenere alta l'attenzione posso perché quello è un periodo in cui noi siamo protetti parzialmente ecco però nel quel frangente professor Palù posso infettarmi ma il mio fisico è più debole cioè devo stare più attento di prima in quella settimana assolutamente no il vaccino non la sta indebolendo no pensavo che nel momento in quella settimana cioè pensavo le faccio la domanda in quella settimana devo essere rimanere più coperto e far di tutto per non cercare di prenderlo tutto qui perché potrebbe causarmi dei danni le stesse accortezze che manteneva prima non dire adesso sono vaccinato mi tolgo la mascherina per dare un esempio no perché come spiegavo o cercavo di spiegare c'è bisogno di tre quattro settimane perché si formano gli anticorpi e addirittura c'è bisogno di una settimana dopo la seconda dose per essere tranquilli allora perché c'è bisogno di due dosi per questo vaccino perché faccia effetto professor Palù perché si è visto che la prima dose protegge nel 50% dei casi quindi la seconda dose è oltre il 90% per il motivo che l'ho appena spiegato quindi c'è bisogno di un cosiddetto boost di un rinforzo e questo rinforzo cosa fa? fa a quelle cellule che avete mostrato nel vostro sketch addirittura alcune le fa produrre di più le richiama altre le fa diventare cellule memoria cioè queste si ricordano di aver incontrato l'antigene e magari tra un anno o tra due anni quando lei fosse di nuovo infettato sono pronte a rispondere quindi c'è bisogno di creare questo armamentario ha bisogno di un certo tempo semplificando viene fatto il vaccino tre settimane la seconda dose dopo un'altra settimana quindi io sono a riparo per il 95% possiamo dire così quindi posso togliermi la mascherina? potrebbe in linea teorica e perché non in linea pratica? in linea pratica lo dico che è bene che noi controlliamo allora sappiamo che questa immunità probabilmente dura per circa 9-10 mesi ecco questi sono da studi avevo capito 6 più o meno calcolando come decadono gli anticorpi ma sa la medicina soprattutto clinica non è una scienza esatta ognuno di noi è diverso uno può reagire in maniera più forte lei sa perché si parla del 95% anche il vaccino per il morbillo che è così efficace 95% perché c'è sempre una percentuale che non è è la garanzia che si prendono i medici è la costituzione genetica di solito si prendono sempre la garanzia i medici è la costituzione genetica lei quando fa la coloscopia per quanto si pulisca non le dicono mai che sarà ben pulito mai non le dicono mai non vale solo per i medici vale per tutti sì ovviamente vale per tutti ma senta quindi poi fra 9 mesi come diceva lei un anno 6 mesi quello che sarà bisogna rifare il vaccino questo si valuterà è una costante come quello antifluenzale che viene fatto ogni anno anche qui e bisognerà per essere a riparo farlo ogni 7-8 mesi 9 quello che c'è direi che tra 6-7 mesi noi avremo accumulato così tanti dati su una così vasta popolazione che sapremo esattamente dire quanto dura l'immunità se l'immunità ci protegge contro le varianti che si sono formate prima e che si formeranno ancora quindi avremo questi dati e potremmo allora fare altre proiezioni dire se avremo bisogno di un altro richiamo oppure no senta professore faccio una provocazione io ho il vaccino cioè prendo il vaccino e il vaccino ti da una faccio una provocazione abbastanza banale poi ho il 95% e sono praticamente abbastanza tranquillo dopo un mese due mesi bacio la mia ragazza e la mia ragazza ha il virus rischio allora guardi oppure mi scusi professore è assitomatica non so se però ha il virus io la bacio cosa succede? come dicevo le evidenze sono ancora preliminari che l'immunità sia sterilizzante cioè neutralizzi l'infezione ecco ci può essere il dubbio che anche dopo una settimana dalla seconda dose ci sia qualche soggetto che magari si infetta anche se non sviluppa la malattia ecco questo è uno degli altri problemi biologici e clinici che comprenderemo quindi se lei ha avuto una risposta efficace per cui ha come credo una protezione di tipo sterilizzante un'immunità sterilizzante lei può baciare la sua ragazza no la mia io dico in generale la sua ragazza che è infettata e lei non si non si infetterà no no questa è una sicuramente è una tranquillità che ovviamente e se anche si infettasse avrebbe pochissime probabilità di sviluppare una malattia ma senta professore Palù una domanda una curiosità monoassintomatico è un è un ammalato di covid allora lo sappiamo benissimo proprio in questa seconda fase dell'infezione perché abbiamo fatto molti più tamponi e anche tamponi rapidi che il 90 95% o sono asintomatici o paucisintomatici cosa vuol dire paucisintomatici un colpo di tosse un po' di mal di gola qualche rialzo della temperatura 37,2 37,4 quindi ecco sappiamo che una larga fetta della popolazione è pauci o asintomatica quindi un asintomatico poi sappiamo di più può avere una bassa carica virale o può avere un'alta carica virale e guarda caso sappiamo che sono i più giovani che sono asintomatici alcuni di loro ma si considerano ammalati quelli secondo lei allora un ammalato è uno che sviluppa i sintomi della malattia e quindi quello non è un ammalato uno che non li sviluppa non è un ammalato però può essere contagioso se ha un'alta carica virale allora mi dicevano professore la gente comune nel parlare io dicevo quello che mi sta dicendo lei se è asintomatico mi viene il ragionamento normale che non è un ammalato e no mi dicevano guarda che quello è un ammalato perché quello te lo può avendo un'alta possibilità virale di attaccarlo ma guardi che il vantaggio dei test rapidi è proprio questo perché facendoli in pochi minuti mentre col test molecolare con questa diciamo numerosità di soggetti infettati non potremmo certo fare il tracciamento lo possiamo fare proprio perché facciamo i test rapidi con un test rapido potremmo tracciare proprio quel soggetto che ha un'alta carica virale e il test rapido è meno sensibile del molecolare ma proprio perché è meno sensibile quando è in grado di rivelare la presenza del virus è quasi sempre un virus che ha una carica sufficiente a contagiare quindi è grazie a questi test rapidi che noi possiamo tracciare questi individui che altrimenti sfuggirebbero senta professore le faccio l'ultima domanda lei è presidente dell'AIFA e che compito ha l'AIFA nei confronti del vaccino il presidente o l'AIFA no l'AIFA l'AIFA è l'ente regolatorio ecco quindi che compito avrà sui vaccini allora per esempio a parte il vaccino ecco avrà sentito parlare degli anticorpi monoclonali anche quelli in America vengono già utilizzati ci sono lavori pubblicati che dicono sono molto volevo dire sono molto anche allora non ce lo dico io meno invasivi del vaccino allora beh sono un'infusione come il vaccino invece se lo facciamo in un minuto meno invasivi nel senso di che ha paura è un'infusione che dura no mi scuso ho sbagliato io nel senso volevo dire mi hanno detto quelli che hanno paura del vaccino che temono il vaccino dicono che col monoclonale rischiano meno ecco mi hanno detto questo la prenda con beneficio inventario le faccio quello che sto dicendo che non ci dovrebbe sto facendo di tutto per far capire che non si dovrebbe avere paura del vaccino comunque uno deve sempre pensare in termini critici i monoclonali saranno una rivoluzione eccezionale allora ci sono dati già pubblicati negli Stati Uniti e l'FDA li ha già autorizzati per uso emergenziale come aveva utilizzato i vaccini perché hanno dimostrato che sedati nelle fasi preliminari preliminari cioè quando ci sono i primi sintomi all'esordio sintomatico sintomatologico quindi del covid-19 sono efficacissimi il 90% dei soggetti non si ricovera più certo che sedati e questo vale anche per la trasfusione di plasma iperimmune sedati in una fase avanzata della malattia sono poco efficaci è quello che ha preso Trump ha preso il Regeneron che non è quello della Lilli ma è stato anch'esso autorizzato e verrà valutato anch'esso dall'EMA l'EMA non li sta valutando per uso emergenziale ecco l'intervento dell'AIFA le agenzie regolatorie nazionali invece potrebbero autorizzarli è quello che io ho promosso in AIFA e spero che daremo presso un'autorizzazione mi permetta per studio comparativo per esempio due monoclonali provare il Regeneron provare quello della Lilli e provare anche quello di AstraZeneca con University College London quindi è un compito delle agenzie regolatorie oltre a quello di controllare la sorveglianza dei vaccini che gli ho appena spiegato ma hanno un costo alto questi monoclonali dicono che potrebbero potrebbero arrivare qui in Italia ma hanno detto la prende anche questa con benefici inventari perché mi sono informato 6.000 euro a dose che è sopportabile sono 1.000 euro guardi 1.000 euro ho detto sono pochi mi sembra che sono tanti per tanta gente mica pochi bravo ho detto bene 1.000 euro sono pochi visti per un singolo individuo ma possono essere tanti se noi facciamo un trattamento di massa allora diciamo i monoclonali sono stati una rivoluzione non dimentichiamoci che due anni fa il premio Nobel è stato dato proprio alla scoperta di quei monoclonali che interferiscono con i cosiddetti linfociti soppressori quelli che sopprimono risposte immunitarie contro i tumori e guardi caso sono state una rivoluzione perché l'immunoterapia dei tumori si basa su questi monoclonali ecco questi monoclonali invece agiscono direttamente sul virus e possono essere combinati in miscela in modo che se anche c'è una variante perché il monoclonale è molto più specifico cioè lega quel singolo epitopo quella frazione di antigene quella piccola sequenza di aminoacidi ma si possono fare in combinazione quindi più monoclonali e secondo me sono un'arma potentissima che si potrebbe associare al vaccino quindi in soggetti che magari nella fase come dicevamo prima in cui non si è ancora coperti dalla protezione degli anticorpi oppure nel caso insorgesse una nuova variante perché anche questi si disegnano in tempi molto rapidi ecco quindi voglio dire sono un'arma potente e gli enti regolatori servono anche a questi non solo a sorvegliare ma autorizzare anche in missione per uso clinico di farmaci sperimentali e questo potrebbe essere il primo professore noi ci vedremo nel 2021 sperando sia un anno migliore del 2020 che è stato davvero un anno non molto fortunato tra guardi nevicato che era lo Ali che lo nevicava così e non si può sciare arriva il terremoto quest'anno è stato proprio un anno di quelli sono morti moltissime persone conosciute cioè è un disastro in assoluto Polentieri se mi lascia dire o dare l'ultima raccomandazione ai vostri telespettatori a chi ci guarda ecco è giusto che abbiate dei dubbi però non fidatevi delle notizie che corrono via ettere in internet se avete dei dubbi cercate di approfondirle col vostro medico di fiducia col pediatra di fiducia guardate il sito del live ci sono oltre 30 domande sui vaccini sull'efficacia sulla sicurezza con delle risposte e sentite gli esperti ecco non confortatevi vedete anche tizio la pensa come me e come caio ecco questo non è il modo di affrontare un problema ricordo è un problema grave guardate quante persone muoiono di questa infezione quindi prendetela seriamente i vostri dubbi non abbiate paura di esporli esponeteli a persone che vi possono dare risposte ha fatto bene a dire questo e aggiungo anche che devono seguire ovviamente dei professionisti e giornalisti che fanno anche delle trevisioni su questo ovviamente avendo ospiti importanti del settore che potranno darvi delle risposte veritiere e non da quei cialtroni che girano nel web e che scrivono davvero delle cose demenziali quindi ascoltate il consiglio che vi ha dato il professor Palù che mi trovo perfettamente d'accordo grazie grazie buon fine anno buon principio per il mio avventuro augurandoci tutti che sia un anno migliore di questo grazie e a tutti quanti ci ascolteranno grazie professore invece noi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primo Sintepares buonanotte buon fine anno e buon principio d'anno questo programma è stato offerto da Dispar Eurospar Interspar da 60 anni il valore della scelta Interspar